Sì sì sì, sono io, sono io, sono io Oh, bellissima questa! Ah, ma ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo bellissimissimo video di... Spiderman News Morales Allora, vediamo un po' ragazzi Che possiamo sbloccare nuove attività a quanto pare Vediamo un po', nemici Allora, tiri vuoto, tiri a quello per sto per lanciare l'arma No Incrementare, possiamo potenciare? Ma certo! Incremento il potere bioelettrico generato da attacchi e schivate Barra Venom Ok, mi sono sblocchia questa nuova cosa Poi questo è livello 1, vabbè Guarda, ma è diventato tipo gran vettauto Possiamo andare dove vogliamo Quindi questa è tutta la nostra città E a quanto pare questa è casa nostra Ok, mi piace Quindi c'è anche la modalità oltre alla campagna Allacciarsi le gagne tele In cui voglio la polizia trasferito a redatto alcuni detenuti Io e Pete siamo... Io e Pete siamo la loro scorta ufficiosamente Vabbè Ehi, ehi, ehi Ehi, ehi Rai Cosa? Già, già Dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? No Ah Beh Guarda come cammino Ma io gli chiedo Ma se mi butto Non voglio No Non voglio Se mi dutto Ah Come cammino Buongiorno Ma io posso staccare C'è un cucinale a testa a questa bichia da non c'è a lavorare Come ti va Scusate No scusate Ok Prima che arrivi la polizia Tu sei un cavolo Cosa Tu non hai visto niente Te non hai visto niente Ti hai visto qualcosa Hai visto qualcosa te Te hai visto qualcosa Vabbè Io me ne vado Stai 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 Ah Ok Quindi per andare in picchiata Vabbè Non mi importa Qual è L Aspetta Poi non c'è capo niente Lasciamo perdere Grazie C'è qualcuno Eh sì Buongiorno signore Eh sì È Car delivery Sa Non ho molta voglia oggi Di vivere Allora C'è una volta voglia di entrare la porta Minata No se non è No se non ho fatto di vivere Corsa verticale Saluta libera Saluta libera Ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo. Che cos'è? Bello. Robo, Robo, ti copro io. Eh? Ma hai visto nessuno cambiarsi al centro al parco? Ok. Come mi sta? No, dai, però, me lo devo... No, posso... No! Posso sbloccare centinaia di tutte? Ma no, io voglio questa. Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra regalo? Mi avviso quando la trovo. Poverito! Oh, bello! Vabbè, questa è la tutta... Vabbè, è un po', diciamo, una tutta di quelle standard, eh? Vabbè, ma dove devo andare? Col cavolo che io faccio metà mappa! Vabbè, mi diverte. Cioè, secondo me, secondo me, in futuro, le macchine, addios, amigos, macchine volanti, addios, amigos, futuro. E non è questo che sarà in futuro. E non è questo che sarà in futuro. Tutti così? Cos'è quello? Io dopo lo voglio visitare. Quello chi era? Vabbè. Sto cadendo benissimo! Oh, guardate che bello! No, vabbè, che succede lì? Sembra il ping di Fortnite. Spunta Fortnite! Ah! Guardate che andavo liscio, come la ballerina! Ah, va bene, non ho fatto male. Sì, 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 sì. Bellissima questa! Sto sbloccando un po' di robe. È lì! È lì, la mia missione. Che succede? Posso vedere il pugno Venom? Vabbè. Un computer? Se mi combatte vuol dire... Ok. Ehi? Beh. buon mi ha messo barriere così di sito non esce allora in realtà posso ma si dà quando una missione non so per quale motivo sono a acco facciato sul palo si scusate ragazzi è una cosa si può vedere un po dove si portano missioni ok qui regalo d'addio questo mai vabbè si gente è una cosa di famiglia si ok ok ma magari così sblocchiamo ma magari così possiamo sbloccare nuovi attacchi quindi è un po' meglio ehi robot il robot si io come una catapulta guarda che sbara come una catapulta sti nuovi attacchi ouch mi sono preparato cos'è questo quell'arma eh là là vediamo vediamo come una catapulta che ma Ah, quel davanti piede di porco. Ok. Io un po' meno. Così io li posso... attaccarli. Beh, secondo me questo sacco lo userò poco. Ah, mi sto sparando. Allora, perché l'hai lì su una? Grazie. Ah, ora, ora basta. Ora basta, ora basta. Oh, man. Ok. Un po' bagato. Ma questo è l'addestramento? Oh, bellissima. No, questi mi fanno fuori davvero? Ah, non riesco a capire più niente. Pure, pure loro. E ci vuoleva proprio. Ah, mi ha ucciso. Ah, non riesco a capire più niente. Oh, benissimo. E' qui per una ripazzata? Uuuuh, che blocco di ghiaccio in bocca! Mi si è buggato? Uuuuh, un po' di venno! Quelli con la mazza io li odio! Uuuuh! Un po' di venno! Ora basta! Nooo, il mio lontano troppo! Un po' di venno! 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 Guarda che grande la città! Un po' di venno! 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 O un po' di venno! Un po' di venno! Prima il progetto e poi casa! Mentre! Perfetto! Perfetto! Oh! Aspetta! Secondo me prima che sblocca ai miei poteri una città! La giurato anche Peter nello scorso episodio! Quindi, meglio la città! Sanremo lì cosa potrebbe essere! Se mi arriva quello e mi dice tieni! E basta! Se io spero che sia qualcosa tempo in видica la città! Anfena! 8oo-9 ma che parlo ma che questi sono tutti ma no basta eccomi problemi per ora niente tutto a posto ehi c'è il nuovo te il nuovo te vabbè e la risposta è no una sola capsula di queste evoluzionari a sostanza può garantire a darle la energia finita e sicura per almeno 500 anni presto attiveremo reattori in tutta Manapana tutto il mondo questo è pubblicità ma questa è pubblicità ma cosa è? che cavolo che cavolo ragazzi che cos'era ragazzi che cos'era? spai di me non stare così spai di spai di spai di spai di chi è questo? e questo chi è? buongiorno wario ma perché questi hanno armi? perché? no perché? però potere Venom non mi prenderete mai questo maledetto questo è una box fight una boss fight maledetto è una box fight a quanto pare curati spai di ah chi era questo di sopra? ok primo attacco ma sopra c'è gente c'è gente sopra no maledetti quanti siete vuoi eliminarvi tutti cavolo 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 il reattore funzionerà sono sicuro secondo me è meglio così guardami che non mi vede come la catapulta tu hai parlato? tu hai parlato? tu hai parlato? tu hai parlato? io aspetto che vengano tutti giù devo fermarli oh il potere reno oh il potere reno di nuovo di nuovo cosa hai detto? aia 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 mi hanno killato intanto penso a te intanto penso a te che è meglio e che me ne vinci spero che questa mi spazio rispondi chi armi sono? memoria metallica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio trovare una cosa. Ci sono lì sopra? Aspetta. Lo sapevo! Basta! Non hai ragione, sono entrati qui. Forse stanno cercando il nuovo. Con che tranquillità! ok male messi servivo no e vabbè e vabbè ora basta che col cavolo ok maledetto questo era rischio se mi becchi la miseria qua muoio no oh ancora vivo sei basta oh dopo 300.000 tentativi visto un centro logistica di soli ok 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 di nuovo beh easy va bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vedremo in una prossima puntata ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao